Punto di rottura, l'informazione che spacca con Rush. Bentornati a Punto di rottura, nuova puntata per questa chiusura di weekend, buon pranzo o meglio ancora a chi in questo momento è quasi in preparazione e come dico ogni volta che torniamo anche buon proseguimento di serata perché ci sono molte persone che guardano questo programma in seconda serata in replica. Allora oggi ho deciso di chiudere questa bella settimana nel miglior modo possibile come? Con un po' di notizie che abbiamo ovviamente trattato durante questi giorni che abbiamo passato insieme ma anche con il turismo. Dico turismo perché? Perché lo sapete che è un bene, un patrimonio nazionale, il turismo italiano è qualcosa di incredibile, è qualcosa che muove l'economia e spesso e volentieri non diamo nemmeno la giusta importanza. Quindi sicuramente parleremo di questo, poi se ce la facciamo facciamo anche un po' un escursus di qualche notizia, tempo permettendo, che abbiamo trattato già in questi primi giorni della settimana. Poi ci sposteremo anche a quella cosa brutta che esiste negli stadi, esiste anche fuori monumenti e addirittura adesso è arrivata online, parliamo dei bagarini online. Noi dice che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono aziende che adesso sono straindagate, che comprano biglietti per alcuni monumenti italiani e romani come per esempio il Colosseo, se li rivendono maggiorati e ci guadagnano più soldini. Si può fare? No, non si può fare, ma ci sono aziende che lo fanno e quindi vabbè, poi cercheremo di capire. Ci sono anche altri argomenti che probabilmente andremo a trattare tra pochissimo in questa puntata di Punto di Rottura, ma a questo punto io inizierei proprio a parlare di turismo. Ah, sicuramente parleremo anche di traffico, perché sta arrivando il giubileo, il turismo, il giubileo, il traffico e non so quanti di voi magari sono rientrati a casa in questo momento con qualcosa che a Roma si dice rode, qualcosa che non va bene, oppure stanno uscendo, quindi preparatevi perché tutta la città, già ve lo dico se si parla di Roma, ma non solo, anche perché ci sono molte persone che ci guardano, che vengono anche fuori dalla capitale e poi quando arrivano in città si trovano un po' di problemi. Ripeto, questo perché ci sono un bel po' di lavori in città e niente, anche tanti problemi, ma ci arriveremo piano piano. Allora, partiamo dal turismo. Dico perché turismo? Perché dobbiamo un attimo aprire gli occhi sulla potenza che abbiamo, soprattutto qua a Roma, ma non solo Roma, perché il turismo regionale è molto importante. Spesso e volentieri si punta sempre il dito contro alla capitale, quando si parla di turismo tutti che vanno a Roma, tutti che vanno in centro, ma non è così. Ci sono molti posti del Lazio che vengono stravisitati e i turisti quando arrivano in Italia spesso e volentieri fanno proprio un tour. Vi faccio un esempio banale, così capiamo. Tante persone arrivano qua, vanno nella capitale, sì, vanno a vedere i classici monumenti, ma poi si spostano anche per esempio ai castelli romani, vanno fuori Lazio per, non so, vigneti, vanno nei paesi, vanno nelle montagne, vanno al mare, quindi si spostano anche perché i tour operator danno questa bella possibilità. Detto ciò, torniamo sul turismo italiano e soprattutto quello romano. Questo è un periodo particolare, sapete che aprile, settembre, diciamo che sono i momenti più belli per la nostra città, per Roma, non solo perché, perché il tempo è buono, è normale, c'era, ci sono 30 gradi ancora fuori, non so quanti di voi hanno la possibilità di potersi fare, magari una passeggiata in centro, ma si sta veramente molto bene. E quindi questo è un periodo dove i turisti assediano la città. E cosa si trovano in città? Cosa si trovano quando camminano per strada? Trovano un casino. Lo dico perché io sono uno di quelli che prima di fare le puntate televisive si va a fare una bella passeggiata per la città, ascolta, legge i vostri messaggi, ricordo che c'è sempre il numero della diretta disponibile per anche le vostre denunce, ascolto i miei colleghi che raccolgono tantissime denunce degli ascoltatori della radio, della televisione, del nostro network, che ci seguono e leggo, leggo tutte le vostre super, diciamo, lamentele che arrivano ed è giusto anche che ci siano, perché la città a volte, purtroppo, non è proprio una saponetta, al contrario. Quindi cosa succede? Questi turisti arrivano qua a Roma, nostra bella città, e si trovano di tutto di più. Si trovano ancora alla sporcizia ed è un casino, nonostante tutto magari uno cerca di ripulire la città, di mantenerla pulita, ma è un casino quando c'è tanto afflusso di persone, è normale, si trovano un po' di disagi, soprattutto si trovano nel traffico. Però perché si trovano questo traffico? Si trovano questo traffico perché ci sono dei lavori in corso che sono iniziati anni fa, posso dire anni fa, e ad oggi ancora sono incompiuti, ma ci arriveremo tra poco. Si trovano il caos perché? Perché probabilmente non sono abituati anche ad avere magari dei mezzi pubblici un po' lo, un po' lo, 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 nel senso dei mezzi pubblici che comunque non funzionano bene. Queste sono tante lamentele che arrivano da parte dei turisti che poi vengono un po' qui a Roma, ma anche le vostre che lavorate, frequentate un po' la città, vi spostate, avete gli stessi problemi di un turista che arriva qui nella capitale. Ma attenzione perché c'è boom, bisogna dirlo, boom di prenotazioni. Quindi in questo periodo stanno schizzando le prenotazioni per alberghi, bed and breakfast, Airbnb, ci sono molte persone, sicuramente, probabilmente qualcuno c'è anche dall'altra parte della TV in questo momento, che hanno preso gli appartamenti personali e hanno trasformato questi appartamenti in Airbnb, nel senso in questa nuova modalità di affitto stanze, case, appartamenti interi, bille, che funziona. Perché sta funzionando? Funziona perché dà la possibilità a tantissime persone, uno di avere un prezzo abbastanza decente, anche se c'è sempre un limite da rispettare, ma soprattutto di stare all'interno di una casa o di avere una specie di convivenza e spendere un pochino di meno. Ci sono tantissimi appartamenti che stanno nascendo in questo momento proprio per il giubileo e spesso e volentieri si tenta magari di acquistare una casa o di farla diventare proprio una casa vacanze, mettiamola così sotto questo punto di vista, ma Airbnb, questo perché? Perché porta praticamente beneficio sia a livello economico, ma soprattutto anche per la nostra bella città. Quindi ci sono molte persone che stanno offrendo questi tipi di allonci. Questo perché? Perché c'è un boom incredibile. Io vi lancio un po' questa, anzi vi do questo consiglio. Se avete un appartamento, se avete la possibilità di poter recuperare delle stanze, poter affittare delle stanze e magari in questo momento ve la state passando non proprio bene, beccatevi questo consiglio, fatelo, perché probabilmente riuscireste in modo tale e così facendo a dare anche una mano alle vostre finanze. Quindi vi do questo bel consiglio, se avete una casa, un appartamento, cercate di tirar fuori qualche stanzetta che probabilmente vi può dare una mano. Lo so, Rush è così ragazzi. Punto di rottura è il programma che spacca l'informazione, è il programma che vi dà l'informazione, è un programma popolare e visto che io sono abbastanza popolare, vuoi che non aiuto il popolo in questo momento, vuoi che non do una mano a chi è dall'altra parte, che ha bisogno anche di due spiccetti, come si suol dire a Roma. Ma tornando a parlare di turismo, ci sono anche tante altre cose che ovviamente bisogna fare attenzione nella nostra città, proprio perché spesso e volentieri magari si assistono episodi un po' spiacevoli. E arriviamo a parlare dei bagarini, ragazzi, dei bagarini, quelli che si mettono praticamente fuori dagli stadi. In questo caso però parliamo di bot. Sono praticamente dei robot. Vengono utilizzati e hanno praticamente fatto il boom, ma nel mondo popolare, con i social. Perché spesso e volentieri molte persone per aumentare i follower, per aumentare magari i like, per aumentare popolarità sui social network, si affidano a questi bot, a questi programmi che hanno degli bot all'interno e fanno praticamente tutto loro. Stessa situazione sta capitando per alcune agenzie, alcune aziende, che si stanno affidando ai bot, hanno creato questi software per comprare biglietti, fate bene attenzione, e vi sto parlando del Colosseo. Quindi praticamente cosa fanno? Acquistano i biglietti del Colosseo e li vanno a rivendere con una maggiorazione. Quindi voi potete solo immaginare, come siamo abituati noi a trovare praticamente le persone fuori che tentano di rivenderti il biglietto, se li comprano tutti, se li comprano la maggior parte, se li comprano ve li piazzano online, tutto online, fa tutto il bot, e queste aziende praticamente poi ci guadagnano probabilmente anche, non ti dico il doppio, non vi dico il doppio, ma poco ci manca. Quindi cosa succede? Succede che l'antitrust, ovviamente, sta conducendo un'indagine, ha bloccato una serie di aziende, e quindi è un messaggio che do un po' a tutti. Fate attenzione. Soprattutto se volete magari acquistare dei biglietti online, e volete andare a vedere una mostra, un evento, un reperto storico, un museo, fatemi un giro sul web. Non andate direttamente sul primo ticket che vedete, perché spesso e volentieri potrebbe capitare che dietro c'è la truffa. E sapete che io, in punto di rottura di truffe, sono cintura nera praticamente, cioè che sono cintura nera di truffe, io sono quello che sgama tutte le truffe, nel senso, sono quello che praticamente cerca di dare una barra a tutte le persone che sono dall'altra parte e vogliono magari cercare di non farsi fregare. Questa è una buona opportunità per rubarvi dei soldi, quindi fate attenzione, comunque hanno pizzicato, come si dice in città, questi bagarini li hanno pizzicati, quindi probabilmente, online intendo, probabilmente l'antitrust provvederà alla chiusura di queste aziende, o meglio al multone che non fa mai male. Allora, sicuramente tra poco torneremo a parlare un altro po' di turismo, torneremo a parlare di ciò che accade anche in questa città, cose piacevoli, cose spiacevoli, vedremo se deciderò, visto che questa è una diretta, deciderò di aggiungere qualcosa di un po' così che ci lascia un po' lavare in bocca oppure farvi chiudere questa settimana nel miglior modo possibile. Per adesso vi dico così, rimanete là, se state per cucinare tirate fuori gli ingredienti giusti che non guastano mai e un consiglio, fatevi un bel piatto di pasta che fa sempre bene, soprattutto poi se viene cucinato a casa magari con il pomodorino, vi do un consiglio, un pomodorino buttato lì, due spaghettini, aglio e olio, ragazzi, la morte è sua, come si suol dire. Poi se ci volete mettere un po' di torno per le proteine, non guasta mai, questo è un messaggio alla mia nutrizionista, così capisce che sto lavorando anche fuori. Detto questo, torniamo tra pochissimo, rimanete là, questo è il punto di rottura, il programma che spacca un po' l'informazione ma soprattutto il popolo fatto veramente dal popolo. Passatemi il termine. Rimanete lì, torniamo tra pochissimo su Radio Roma Television. Punto di rottura, l'informazione che spacca con Rush. E torniamo in diretta per la seconda parte di Punto di rottura insieme a me ogni giorno dalle 12 sul canale 14 su Radio Roma Television per questo programma che accompagna un po' quelli che poi decidono di ascoltare, di guardare, di capire un po' quello che succede anche nel nostro paese e fatto in una chiave di lettura molto popolare. Perché? Perché è un po' quello che diciamo mi caratterizza. Allora, abbiamo iniziato a parlare nella prima parte del programma di turismo. Abbiamo parlato di quanto fondamentalmente è bella la nostra città. Vi ho dato anche qualche informazione e qualche consiglio soprattutto se avete un appartamento, qualche stanza messa lì e avete l'opportunità affittatela. Quindi fate ovviamente le cose tutte in regola, fatene in miglior modo possibile, ma se avete la possibilità di poterlo fare apritevi qualcosa e affittate appartamenti perché sapete bene che stiamo andando verso una direzione chiamata Giubileo 2025. Io volevo anche ringraziare la regia di Federico che poi nel Forion abbiamo anche ascoltato l'inno del Giubileo 2025 e poi abbiamo capito che non potevamo metterlo in diretta perché diciamo che era molto ecclesiastico, molto ecclesiastico, quindi magari in questo momento qualcuno di voi che sta lì mangiando in procinto di ascoltare prima serata, seconda serata dipende anche se state guardando la tv in replica magari proprio non sarebbe stato super top. Però mi voglio legare questa cosa del Giubileo 2025 e questo perché? Perché il turismo ovviamente abbiamo detto che porta molti soldi alla capitale. A parte che vorrei capire dove vanno a finire tutti questi soldi perché poi c'è sempre un casino nella nostra città a partire dai mezzi pubblici che arrivano denunce su denunce. Io mi diverto veramente a leggere i messaggi che ho mandato anche ai miei colleghi giornalisti anzi loro sono giornalisti però e anche bravi e tutte le denunce che mandate i mezzi pubblici e le buche veramente poi loro fenomenali però detto questo ne arrivano di denunce su Radio Roma. Detto ciò però andiamo a capire questa cosa del Giubileo. Allora il Giubileo porterà veramente tanti soldi nella città forse non me ne rendete conto perché magari non siete molto abbezzi a questa cosa vi interessa non vi interessa siete poco ecclesiastici però io vi vorrei far notare che anche se magari non credete proprio cioè Unione è libero viviamo in un paese stralibero quindi avete sicuramente la possibilità di poter scegliere dove andare nella vostra direzione quindi questo è poco per sicuro ma guardate solo quanta gente può arrivare ad un Giubileo adesso questa è un'immagine di San Pietro ne abbiamo presa una che possa essere Giubileo non Giubileo che possa essere il Papa che si affaccia qualsiasi cosa questo è quello che ci aspetta ma in tutta Roma non è solo un discorso del centro della capitale proprio si parla di tutta Roma allora io dico perché voglio parlare di questa cosa dico va bene non mi interessa la roba ecclesiastica perfetto però dovete capire che se avete magari un'azienda un'attività siete liberi professionisti comunque arrivano soldi in città quando arrivano soldi in città fa bene perché arrivano sovvenzioni quindi in realtà si fanno strade lo sapete come funziona appena c'è qualcosa del genere si attappano buche si sistemano strade si montano le luci i lampioncini si mettono le decorazioni alle città poi quando finisce il Giubileo sparisce tutto però vabbè ci siamo abituati noi della capitale detto ciò però questa cosa del delle sovvenzioni dei soldi che stanno arrivando da una parte bene perché veramente ci rifacciamo il pelo un po' come abbiamo fatto noi in radio ma d'altra parte ovviamente ricordiamo che siamo nella capitale siamo in città stiamo uscendo adesso da agosto e le strade cominciano ad essere intasatissime intasatissime questo perché stanno facendo i lavori quindi automaticamente a settembre potete solo immaginare quanta gente è tornata in città quanta gente è tornata a casa quanta gente va a lavorare tutti i giorni anche perché mediamente in questa nostra città se abbiamo una famiglia siamo in tre persone in famiglia minimo minimo ci sono quattro macchine non si spiega tre persone in famiglia quattro macchine ovviamente è una media romana ma non sto scherzando cioè adesso io non so quanti di voi hanno più macchine che essere umani all'interno della famiglia ma veramente vediamente c'è una macchina a persona se vogliamo rimanere in tema a cristiano quindi c'è una macchina a persona e questa cosa del traffico romano ovviamente sta mandando in tilt tutta la città roba che Gualtieri il sindaco si sta rimboccando le maniche perché gli stanno praticamente puntando gli occhi addosso tutti anche se lui aveva preventivato del fatto dicendo calmini state calmini tutti quanti stiamo sistemando la città e ci sta che c'è un po' di caos e per forza per forza per forza dovuto anche per esempio stanno girando un po' di immagini anche di piazza Venezia anche se i social il traffico di piazza Venezia traffico su traffico ci sono dei lavori di manutenzione lì c'è Areti che ha praticamente creato ha fatto una linea nuova avete presente quando si creano dei cavi nuovi rete elettriche nuove a terra si mettono delle piastre le piastre quelle d'acciaio quelle che servono praticamente per far sì che noi possiamo camminarci con l'autovettura con la macchina in poche parole lo spostamento però di queste piastre è blocca al traffico quindi quando lo vediamo nell'immagine ci sono queste buche vedete le piastre in acciaio quelle dove sono lì in fondo dalla parte dove ci sono i tizi con il giacchettello giallo quelle sono le piastre ad acciaio quelle là devono essere spostate e portate in cantiere portate ovviamente nei depositi questi spostamenti creano disagi nella città ma è normale dai ci sta è normale io lo dico da popolo è normale è normale quindi se dobbiamo farci belli è normale che poi paghiamo anche il prezzo di quello che state vedendo in questo momento questo è il traffico che sta girando sui social le fotografie traffico on tilt traffico on tilt a Roma non si può a Roma non si può ragazzi stiamo facendo i lavori Roma si fa bella tutti quanti quando si fanno i lavori sono così non è che siamo gli unici al mondo quindi la dico un po' a livello popolare ogni tanto secondo me dovremmo fly down cioè volare un po' bassi non stare sempre lì con sta pesantezza c'è il traffico a Roma c'è il traffico quindi se vi lamentate del traffico romano bisogna cambiare città cioè sono poche le scelte non è che possiamo fare altro quindi se c'è il traffico romano non vi piace bisogna cambiare città ovviamente tutti quanti ripeto stanno puntando il dito contro Gualtieri contro il sindaco perché ah sindaco come è possibile è possibile se ci sono i lavori ci sono i lavori però ovviamente arriveranno anche soldi quindi è vero che ci stiamo facendo anche belli sicuramente cambierà qualcosa nella nostra città nei nostri quartieri di prassi la zona quella sud della capitale dove c'è zona torvergata ultimamente se non era l'ultimo giubileo anni fa fu fatto proprio lì lì ci sono distese di prati dove c'è anche l'università con un crocefisso una piazza anche molto bella e è un posto ottimo per poter accogliere tutti i pellegrini che poi arrivano praticamente in città credo che anche quest'anno utilizzino la parte della zona sud della capitale però almeno tante zone si rifanno il pelo quindi questa è una cosa che non guasta mai molto bene per la nostra città quindi tornando a parlare di turismo ci sta che ovviamente arrivano molti turisti in Italia arrivano tanti turisti a Roma e preparatevi perché arriveranno veramente molti pellegrini nella nostra città e tutti questi pellegrini che arriveranno se voi avete un'azienda un'attività avete qualsiasi cosa che possa comunque farvi fare soldi sembra brutto dirlo ma è la verità cioè nel senso viviamo anche per quello nel business sicuramente avrete dei bei benefici io volevo un po' diciamo chiudere questa giornata con una notizia un po' così perché spesso e volentieri abbiamo parlato di episodi spiacevoli che accadono nella capitale la capitale è fatta da tante zone ok zone che vanno un pochino meglio zone che vanno un pochino peggio zone che si vogliono anche un po' risollevare che tentano di risollevarsi però purtroppo a volte succedono degli episodi che ci lasciano un po' bocca aperta è il caso di ciò che è successo in zona Torbella Monaca dove hanno ucciso un ragazzo Daniele Di Giacomo e lo hanno ucciso con una pistola quattro colpi la ragazza si è messa anche in mezzo perché ha tentato di salvarlo quindi ha tentato anche di mettersi in mezzo non ce l'ha fatta tutto questo è successo ieri verso lì 17 di sera e sembra veramente di stare in un film di Suburra cioè veramente sembra di stare all'interno di un set cinematografico il vero e proprio Far West scrivono anche i giornali e devo dire che si rimane a bocca aperta la ragazza la compagna di Daniele è ferita ad una gamba è stata portata a Tor Vergata ne parlavo prima non è grave se la caverà tutto questo è successo via Quaglia ora non voglio parlare della zona non voglio parlare di Torbella Monaca perché sono cose che possono accadere magari anche in tante altre zone e spesso siamo stati un po' diciamo anche protagonisti non so quanti di voi si sono trovati in mezzo è mai capitata una cosa del genere è proprio qui io che voglio aprire una grande parentesi ne riflettevo prima con alcuni dei miei colleghi mentre ero nel Fuori Onda è proprio questa cosa qua dicevo provate solo a immaginare ad essere lì in quel momento le 17 di sera quindi parliamo pieno pomeriggio bambini che escono da scuola chi fa il tempo pieno bambini che vanno a giocare a calcio a pallavolo in piscina la merendina potete solo immaginare quanta paura quanta paura a trovarsi in mezzo a una cosa del genere delitto probabilmente passionale non sono giornalista quindi non entro in merito parlo a livello popolare però veramente questo dicevo prima provate solo a immaginare a stare lì a passare lì con vostro figlio con vostra moglie con la mamma secondo me sono scene che scioccano davvero e non è facile poi cancellarle dalla propria testa abbiamo assistito ultimamente a tante cose in città l'altro giorno parlavamo anche ieri avevo approfondito il discorso della ragazza che poi era stata molestata su un autobus purtroppo spesso succedono queste cose e un programma come il mio racconta anche questo perché punto di rottura oltre che ad alleggerirvi la giornata perché è quello che mi piace fare però spesso lo sapete che tiro dentro anche personaggi molto importanti della nostra della nostra città del nostro territorio d'Italia che ci danno una mano e ci dicono sempre ecco il loro un po' il loro punto di vista chiudiamo proprio con quell'immagine che avete visto di ieri e chiudo con questa riflessione accendete il cervello guardatevi sempre attorno al di là di qualsiasi zona non parlo di Torbella Monaca parlo di Roma parlo di Italia del mondo se andate in giro guardatevi sempre attorno non abbassate purtroppo mai lo sguardo perché più andiamo avanti e più le cose qua non vanno nella giusta direzione io chiudo così non vi voglio ammorbare troppo ma vi do l'appuntamento alla prossima settimana lunedì tornerà Punto di Rottura grazie alla regia di Federico ci sentiamo ovviamente su qualsiasi canale dedicato a Radio Roma e Radio Roma Television quindi un buon weekend da me Rush buon pranzo un buon proseguimento di serata ciao a tutti Punto di Rottura l'informazione che spacca con Rush